Salve a tutti, in questo video vediamo come configurare un telefono tradizionale, nel mio caso un cordless, con un router Fritzbox. È molto semplice, prima di tutto colleghiamo alla base il telefono e utilizziamo il cavo che è in dotazione con il telefono solitamente, il classico doppino, da posizionare dietro la presa Phone 1 o Phone 2, se ce ne abbiamo diversi. Qua ci sono altre prese, vedete Phone S, se non è un telefono tradizionale. Ok, quindi questo è il primo passaggio, per il secondo dobbiamo adesso andare nell'interfaccia del router. Ora con un computer connesso al router andiamo su un browser e scriviamo fritz.box per entrare nell'interfaccia di Fritzbox, nel mio caso 7590. Non dovrebbe differire molto dagli altri la procedura che vi mostrerò adesso, nel caso voi abbiate un altro Fritz. Allora mettiamo la password del router e andiamo alla voce telefonia, qui a sinistra. Andiamo su propri numeri e adesso facciamo nuovo numero. Ed ecco qua, allora adesso bisogna sapere se il Fritzbox è connesso solo ad internet e quindi non c'è nessuna connessione di rete fissa addizionale oppure sì. Nel mio caso ovviamente sì, Fritzbox è collegato sia a una connessione di SL sia a una connessione di rete fissa. Noi abbiamo un telefono tradizionale, quindi questo. Avanti. E qua mi chiede se il numero è VoIP o rete fissa, quindi analogica ISDN. Io ho Fastweb e loro hanno il numero VoIP, quindi informatevi presso il vostro operatore e io lascio il numero VoIP. Avanti. Qua mi dà Provider di telefonia e qua è molto importante, mettiamo direttamente il nostro, nel mio caso Fastweb. Numero VoIP, ci vado ad inserire il mio numero di telefono. Ora il nome utente, anche lì bisogna che voi chiediate al vostro operatore. Per Fastweb il nome utente è sempre il numero di telefono con il prefisso, quindi lo vado a inserire. Mentre la password è il numero cliente, Fastweb nel mio caso, più le prime quattro cifre del mio codice fiscale. Quindi questo per chi ha Fastweb, semplicemente basta che voi recuperiate il numero clienti e ovviamente le prime quattro lettere del codice fiscale. Quindi vado ad inserirle. Ok, ed ho inserito anche il codice cliente, che nel mio caso ho reperito nell'applicazione My Fastweb alla voce del profilo. Comunque sono tutte cose che si trovano o sulla bolletta o comunque chiamando. Bene, a questo punto facciamo avanti. Verificare la configurazione dell'umero VoIP dopo applica. Andiamo avanti. Qui sta facendo la verifica della telefonia ed è importante che vada a buon fine. Vediamo un po'. La verifica della telefonia via internet ha avuto esito positivo. Ci siamo. Avanti. Ed ecco fatto. Lo stato verde indica che il nostro telefono funziona. Adesso vado a fare uno squillo giusto per capire se funziona tutto correttamente. Ok, ho fatto la prova. Il telefono squilla correttamente. Quindi ce l'abbiamo fatta. Telefono settato. Ora, per qualsiasi dubbio sui parametri che io ho inserito, dovete chiamare il vostro operatore. Non chiedete a me quali sono quelli di Team, Vodafone e altri perché non li posso sapere. Dovete sempre fare riferimento al vostro provider che vi guiderà passo passo. Io vi ho fatto vedere giusto come si setta su Fritz. Quindi dove andare, cosa settare. Tutto qua. Spero di essere stato utile. Un saluto.